un consiglio veloce dal tuo psicologo quando ami così tanto qualcuno puoi convincerti di poterlo guarire dai suoi vizi dal suo egoismo dalla sua slealtà purtroppo non sarà così è molto difficile che tu ci riesca certe caratteristiche non cambiano puoi invece correre il rischio di ritrovarti tu indebolito e sofferente l'amore può fare molto ma non può curare tutto